Ciao, sono Marco e sono un impiegato del Comune di Venezia e rispondo brevemente alla tua domanda. Quando arriverai a Venezia, nei giorni in cui è prevista la prenotazione, troverai il personale di sicurezza nei punti di accesso alla città. Non preoccuparti, vedrai tutto perfettamente segnalato e ci saranno anche degli spazi per la richiesta informazioni. Spero di esserti stato utile. A presto!